Oggi è davvero una giornata felice per noi, per i nostri gatti, per la nostra città, perché significa valorizzare il lavoro di tanti volontari impegnati quotidianamente per la salvaguardia dei nostri animali. Ma farlo in modo consapevole, in modo anche tutelante per il territorio è davvero importante, per cui sicuramente è una cosa importante per i nostri gatti, quindi per una colonia felina che tra l'altro ha sede proprio in una sede comunale, quindi nel cortile di una sede comunale che guarda caso ospita proprio il servizio tutela degli animali. Chiaramente questo è un valore aggiunto per la nostra città, ma è una parte di un lavoro invece più articolato che come amministrazione stiamo portando avanti nella ricognizione delle colonie, nella messa a sistema anche di una serie di iniziative di tanti volontari. In questo caso noi abbiamo avuto anche la partecipazione di una volontaria, di una donatrice, Mirella De Simone, che ha voluto proprio contribuire e anche quindi donare le casette per questa nostra colonia che ormai è qui da diverso tempo.